Ciao a tutti chiciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft ITA Siamo nello snapshot 14v30b In realtà cambia poco dallo 30a, hanno solo fatto dei bug fixes per quanto riguarda dei crash che accadevano Quindi niente di troppo importante Comunque andate a vedere il video che ho messo stamattina Così, anzi ora lo metto anche a caricare già che ci sono Così avrete tutte le informazioni del caso Non vi faccio un riassunto qui, vi dico solamente che Ora parleremo Non so perché voglio andare a dormire, scusate Ora parleremo di un aspetto che è interessante E ci apre delle possibilità Soprattutto per il multiplayer in realtà Ma ne parliamo dopo E dopo vabbè, teste di mob Vi dico solo quello Poi dovete andare a guardare il video dello snapshot Se no mi incazzo Vi picchio tutti, vi picchio Comunque Comunque Come al solito Leggendo i commenti dello scorso video È uscito sempre qualcosa da puntualizzare Oppure da affrontare Affrontare madonna che termini Allora uno Fabcraft Lo so che non è con le mod Ma tranquilli Allora se io che Brent saremo nel server multiplayer con le mod Che in realtà ho già avviato e ho già settato L'ho già presentato alla crew E siamo tutti Crew vuol dire tipo gruppo Al gruppo E siamo Siamo tutti contenti del coso Quindi Il prima possibile iniziamo la serie multiplayer Quindi no problemino Fapperino E E Niente Se non state guardando Fabcraft Solo perché non è con le mod Un po' mi da Non capisco il senso Però Perché Se vi ricordate Cioè Noi abbiamo iniziato con vanilla Abbiamo continuato per tanto con vanilla Era solo una cosa Della serie Per cercare la novità Che abbiamo iniziato con le mod Ma Noi in maggior parte del tempo Mi avevamo fatto vanilla I più vecchiotti di voi Vecchiotti nel senso buono Se lo ricorderanno E Comunque ci stanno divertendo un bordello Quindi Spero che vi stiate divertendo anche voi Con Fabcraft Quelli che lo guardano E E Nada Ieri è uscito l'episodio 4 In cui ho fatto anche una trollata Che non se ne è accorto E non mi sono neanche rivelato Quindi probabilmente Lui penserà ancora a quella cosa Lasciamo stare Lasciamo stare Poi Poi Tipo Quando avrà visto il titolo del video Se no adesso si sarà andato a vederlo Avrà capito il super trollone Allora lasciamo stare Lasciamo stare Poi un'altra cosa Mi avete ricordato Che le pecore Ora Droppano anche da mangiare E Io sono curioso di sapere Quanto danno da mangiare Perché Potrà sembrare una Semi Pazzia Ma Se conviene Più delle bistecche Cosa che comunque Non lo so Magari Ci posso fare una mini farm Come quella delle mucche Solo Per appunto Con Questi Mutton Che Non so come Lo traduca Penso Montone No Montone No Non può essere Montone Dove è italiano Dove è italiano Era qua Italiano Teclicca Ok Ah perfetto Non cambia nome Sembra giusto Anyway Anyway Allora Di cosa voglio parlare Dello snapshot In questo episodio Semplicemente Del fatto Che ora Che ora Ci divertiamo Che ora Ci divertiamo Ma 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 che ora Ci divertiamo Sul ferio Perché Devo prima Possere un bel po' Di roba Qua c'è tutta la roba Nel scorso episodio Vero me l'ho scordato Allora aspettate Prima Un colore Un po' Non lo so Ci sarebbe un po' Di salsa Non lo so O salsa barbecue No Troppo dolce Un po' Di salsa Di soia Ok Un po' Di salsa Di soia Qua sopra Vedi che è più buono Guardalo Ti piace La pecora Guarda Guarda Come muove Ok Basta A proposito Mettendo a posto Ho notato Il La carne marcia E mi sono ricordato Che io qua Avevo fatto una modifica Almeno mi pare di averla fatta Qualche tempo fa Ma ciao cagnolino E ciao Cane rognoso Ho fatto una modifica Per vedere Ma poi non funziona Un cazzo Oddio Oh cazzo In realtà È abbastanza facile Rimediare a sta cosa Che non funziona Come volevo Perché Oddio È abbastanza facile Concettualmente Bisogna farlo multilivello Ma ne avevo già parlato Ne avevo già parlato Comunque Comunque Non era questo argomento Parliamo Oggi Di una cosa che Come dicevo prima Ha molto potenziale Secondo me Nei server Soprattutto pvp Quelli a fazione Tra l'altro E parlo Delle Bandiere O dei banner Cioè Sono tipo Dei Dei cartelloni Avete presente I cartelloni Quando la gente va a manifestare Che porta dietro i cartelloni Quello È quello Sono dei cartelloni Poi Ora non ho fatto in tempo A vederlo Prima di fare il video Sullo snapshot Perché è uscito dopo Ma ho visto un video Di docm77 In cui Facciamo vedere Che c'è un comando Per metterci questi banner Che ora andiamo a creare Tra l'altro Perché so che Chi non ha visto il video Starà Tipo Che cazzo sto parlando E così Questi banner Si possono anche mettere In testa alla gente E quindi L'ammazzonna Più o meno Così Allora come si fanno Ci vogliono degli stick E della lana La lana può essere colorata O meno E noi faremo Un white banner Per ora E semplicemente È un Cartalone Si può piazzare Tutti i modi che vuoi Come Come in sign O in diagonale Aspetta Tanto vado a usare Lascia Si può mettere così Si può mettere un po' Inclinato Oppure tanto inclinato Oppure Un diritto E E fin qua Dici Cos'è Una tavolozza È una tela per pittori Che cazzo siamo E Come si chiama Siamo durante da vinci Qua cazzo vuoi Cioè Sì Siamo durante da vinci Perché noi Con dei Bei colori Che in realtà Scarseggiano Posso No No Non posso Farmare sti fiori In questo bioma Ma quello è un argomento Di cui magari Ne parlo dopo Ad esempio Prendiamo del rosso Che ne ho tanto Facciamo Prendiamo un po' Di giallo E facciamo Dell'arancione Per iniziare Faccio vedere un po' Quali sono le possibilità Ma chi ha visto il video Sullo snapshot Di sicuro Lo saprà già Ma Voglio comunque Farvelo vedere Allora Oddio si è bugato Ah no Sarebbe stato epico Ah ma Che sei scemo Sei scemo Praticamente Noi Utilizzando I colori Possiamo Letteralmente Pitturare Sto coso Posso fare Posso fare così E mi fa la liga gialla Oppure posso fare Così Mi fa un'altra linea rossa Oppure posso usare L'arancione E fare così E mi fa un quadrattino E poi vabbè Devi andare comunque Progressivamente Non te lo fa fare più Più in una volta E io Per iniziare Volevo fare Cosa di bellino Cioè La bandiera italiana Per fare la bandiera italiana Però ho bisogno del cactus E il cactus È anche da tanto Che non ci vado dal cactus Eh tra l'altro Sarà pienissimo Tipo Tipo Pieno Over 9000 Ulla madonna Me ne bastano tipo 3 Quindi Fai un po' te Uh ho fatto la rima Non è vero Ehm Sto pensando Magari sarebbe figo Creare Qualche tipo di farm Di colori Non si può più Quella dark room Però È vero L'hanno fixata Tipo Pezzi di merda Ok Devo dargli fuoco A meno che non ce l'abbia Già Ma non mi pare Me ne sarei accorto Cazzo Qua È vero Li tenevo qua I coloranti Ma che storia No mi tocca Cosce Li per bene Do this Let's do this Let's do this Let's do Cazzo Ora Ogni volta che apro Cosa No No Verde a sinistra Che dopo mi dici Che sono anti Patriotico Che poi è vero Che cazzo Mi frega Vabbè Boom Italia Si Poi faccio Tipo No Tavo cattivo Dormiamo È bellino No È bellino La cosa Figa È che con alcuni blocchi Ti esce qualcosa Di ancora più figo Ad esempio Dove avere dei brick Oh guarda Due blocchi giusti E facendo così Boom Baby Proprio Boom Baby Va che roba Ma si appende anche al muro No va che storia Va che storia Sembra che tipo qualcuno Ha tipo passato Sopra la bandiera italiana Con tipo Un camion Oppure un fuoristrada Ti dispiace Holy shit Eh non mi piace Stra roba Che però Devo spaccare tutto Ok Eh ma ci sono anche altre cose Carine Ci sono tipo Migliaia Ci sono tipo Venti Venti e passa Robe Che si possono fare Venti e passa Pattern Praticamente Magari ce n'è Uno con l'anguria Sicuro No Niente anguria Però Sarebbe stato angurioso Ok Non so dove stanno Da finire No Ok Eh forse Sta roba Del Del coso Me la potevo evitare La I brick Magari Se lo metto Nell'acqua Si leva L'effetto E invece No Non so perché Ma io spero Che le facciano Certe cose Cioè lo so che Probabilmente solo con le mode Riusciranno davvero a fare Una roba del genere Perché Dinebond Non c'ha le pade Non c'ha le pade Come per la La pelle colorata Oppure per la clay colorata Se prendo la Se prendo la clay colorata O la pelle colorata E la metto in un calderone Pieno d'acqua Calda Mi si dovrebbe Magari con un po' di sapone Che non lo so Magari con l'ossa Con le ossa di scherzo Fai il sapone E pulisci le cose Pulisci le cose Ma Tu ci pensi a sto povero Steve Qua In minecraft Ci pensi a lui Che non si lava E non si fa una doccia Da quanto? Da quanto? Da 400 e passa episodi Povero lui Si deve mangiare Con i bagni Qua Ma sempre con i vestiti addosso E poi Mi dispiace Oh Ecco un'altra cosa Che posso dirvi Ehm Il Questo snap Snapshot Ha la novità Che si caricano Solo in chunk In cui Che guardi E quindi Effettivamente Io sto guardando Di fronte a me Ma neanche questo Si è caricato Completamente Potrebbe essere Più glicioso Di quanto immaginassi Se faccio F3 Più A Comunque Non si carica Eh L'X-Ray È molto più facile Ora come ora Guarda lì Ma io vedo tutto Guarda là Guarda là Aspetta vediamo se È cresciuto Vediamo se sono cresciute Le canne del zucchero Scusa ti dispiace Devo vedere se Sono cresciute Canne del zucchero Vaffanculo Ma vaffanculo E rimani là Caffone Ti rendi conto Io non lo so Comunque sì Per quanto riguarda Oh mi sono dimenticato Una roba Per quanto riguarda invece Il progetto del golem Che ho iniziato Lo scorso episodio E l'ho messo Sulla Vicino alla fine Dell'isola Praticamente Farò il progresso Sofcamera Perché altrimenti Ogni volta Devo stare qua E raccogliere robe No Non è proprio Fighissimo Ok Allora Stiamo parlando di banner Ora Voglio provare A fare un bel banner Figo Perché scusa Perché non potrei Ma che mi cazzo Mi cazzo Eh Eh Bravo Bravo Hai capito Chi sarai un po' zitto Bravo Ehm Vuoi fare un Uno di Perché ora Tipo reddit Il reddit di minecraft E tutte ste robe così Stanno impazzendo Con questi banner Tutti che si vanno I propri banner Di qua di là E ho visto uno bellissimo Che voglio fare Perché Per Come Denuncia Ok Voglio denunciare Sta cosa Perché Non va bene Io Allora Come persona Con gli occhiali Da vista Cioè io senza occhiali Praticamente Non ci vedo Non riesco a leggere O altro Cioè vedo delle Forme sfocate Io E io voglio dire Scusa Non posso andarmi a comprare Semplicemente Di ok Da sole No Non posso Perché dici Ah Lascia stare Ma Oh no Lascia stare Lascia stare Ti dico Ti ho detto Lascia stare Lascia stare Perché Mi serve altro Perché Non solo Mi devo comprare La montatura No Ma mi devo fare Anche l'eventi Graduate Quindi si spende Un botto Se anche tu hai Occhiali Mi capisci E quindi Per protesta Vi faccio il banner Con gli occhiali Va che figata Occhiali da sole Anzi Siamo più da sci Però c'è Da sole Va che figata Sì E molti pattern Sono così Come vi ho appena mostrato Tipo Vi basta fare una roba Di questo tipo E metterci al centro Tipo una pallina Oppure fare una roba Di questo tipo E ti fa Tipo la banderia Così Per capirci Vedi BOOM BABY Potevamo fare Una galleria D'arte Va che storia Idea per un nuovo progetto Figata Madonna sti cianca Avevi detto che Ok Allora Eliminerò L'impostazione Che teoricamente Dovrebbe consentire Sta roba Ancora peggio Ok No Non si può disattivare Va che figo Però Oddio Sembra tipo Una di quelle spade Avete presente La spada Ma onda Ma onda Ma onda No perché Mi sto infugnando Con gli anime Ultimamente Avete presente Oddio Con le spade Tipo Avete presente Ok Non devo dirvi Tipo Avete presente Sono tipo Le spade Che ci trovano In alcuni anime Che mi sto infugnando Tipo io Gli unici anime Che ho visto Prima tipo Di un periodo Prima questo Era tipo Dragon ball E naruto Basta Basta Poi tipo In cinque giorni Mi son visto Death Note Che sono tipo Trenta episodi E poi Mi son visto La prima stagione Di No Game No Life Però purtroppo C'è solo la prima stagione Online Non so quando Fero la seconda L'ho anche chiesto Su Facebook Ma Mi hanno ricato Un sito in giapponese Ma non so E poi E poi ho iniziato A guardarmi Sword Art Online Che è sempre Sul tipo Di No Game No Life Però è un po' diverso E mi piace Sword Art Online Perché si vede Che chi Chi l'ha fatto Chi l'ha realizzato Ha avuto davvero Delle esperienze Di MMO Online Perché io mi sono ritrovato Tantissimo Nel In ciò che raccontava Il tizio Comunque Comunque Allora Stiamo parlando Di Sì Galleria d'arte Sarebbe Una cosa Niente male Sarebbe una cosa Niente male Tipo Museo del Louvre No Museo del Louvre È un po' complicato Ma chi cazzo Lo sa fare Museo del Louvre E potremo Iniziare Ad Popolare L'altra parte Dell'isola Perché Magari Alcuni di voi Non Non lo sanno Ma quest'isola Ha magicamente Una parte Dall'altra parte Ti rendi conto Ti rendi conto E poi Non dovete credere A ciò che Vi vogliono far credere No 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 Qua è tutto Tutto un gioco Di censure Di cose No no Chi l'avrebbe mai detto Che dall'altra parte Dell'isola C'era un'altra parte Eh Eh Ecco Il cazzo Che lo sapevi te Eh Lo so Lo so Cose che ti Ti distruggono moralmente Però C'è un'altra parte E qui Ma qui Non si può davvero far molto Perché è tutto Caverna Così Però Da quest'altra parte Ci sono degli spiazzali Niente male Poi anche se si tratta Di magari Abbattere un po' Di alberi E raddrizzare Un po' Di terra Non è niente male Finito L'hender Porcaccia Quella vacca Lurida Putina No scusate La cattiveria Guarda Ah qua Tipo C'è Lo spawn Di Dove è lo spawn Da qualche parte Qua Ah là C'è lo spawn Di ragni Dove c'è Quella torre là No comunque Tipo qui Ecco Tipo qui C'è un bello spazio Da poter utilizzare Basta appiattire Come dicevo Levare gli alberi E siamo a posto Magari togliere un po' Di collinetta Però qui magari Una bella galleria D'alte D'alte Ma perché Non so parlare D'arte Ci potrebbe andare Ci potrebbe andare La mettiamo tipo In mezzo alla natura Con un bel laghetto Zen Tutte ste cose così Ma Me la sto già immaginando Poi verrà tipo Un terzo di come me la immagino E verrà molto più schifosa Però me la sto immaginando Oh si Me la sto immaginando Va che figata Bola Peggio delle Piantagioni illegali Di te sei cosa Ok ok Bene Prima che qualcuno Ci Ci disturbi Non so Magari compare un Vrent selvatico Ad gazzum E ci dice No guarda Qua ce l'ho prima io Col cazzo Ho piantato la mia bandiera Ora che cazzo fai E per sicurezza Ne pianto pure due E mo che cazzo fai Eeeh Si Eeeh Lo so Non è un cyber multiplayer Io mi sento solo Non ho nessuno Accanto Che canzone è? Che canzone è? Cioè che film è? Ma che cazzo ne so io Ah e di sicuro Se mi sto infoniando di anime Anche grazie Barra per colpa di Eeeh ValiantArts E anche To The Moon Ho iniziato To The Moon Ieri E si prospetta una bella serie Perché con quello stile Cartunesco Così Con i dialoghi Le cose da leggere Ti viene voglia Ti viene voglia Te sei un cane rognoso Oddio c'era la nametag Vabbè ma c'era tutti la nametag Che cazzo mi preoccupo a fare? Che cazzo mi preoccupo a fare? Dove sei? Ma ciao signorini Ma ciao Ho scambiato a malapena Fino ad arrivare Al trade finale Della nametag E già mi fa story Questo Guardi Ucciderei Se non solo Mi farebbe come un'altra nametag Quindi solo perché non ti ammazzo L'ho trovato uno da 24 E questo mi piace A più davvero Ora vado a prendere L'altra metà Della sugarcane Perché non ce l'ho fatta A portare tutta in una volta Non avevo voglia Di sfruttarmi L'inventario Comunque Eeeh Ho notato che Il tempo è passato Straveloce In questo episodio Ma non ho praticamente Fatto niente Quindi mi metto a spianare La zona Per Eeeh La galleria d'arte Perché la voglio fare La voglio fare Soprattutto perché Mi voglio divertire A creare i vari banner Non peraltro Credetemi Non peraltro Non tanto per la costruzione In sé per sé Magari la cosa che mi attira È il giardino zen Ma Eeeh No Voglio farlo soprattutto Per i banner Perché voglio divertirmi A fare tutti Tutti i pattern Possibili Immaginabili Forever Nel mondo 1 1 6348 Ecco prima ne stavo parlando Anzi l'ho accennato prima Però voglio parlarne Un po' più in profondità Perché Ecco la cosa negativa Di gli snapshot Eeeh Andando avanti Il fatto che tu sei In un mondo vecchio Si sente È inutile negarlo Eeeh Già ora io Per avere i conigli Dovrei fare un bordello Di strada E Andando più amati Nel tempo Mi ritroverò Senza le cose Che diventeranno Non dico principali O essenziali Più che altro Ma che saranno Una grande parte Del let's play E allora Io Io butto l'alsemino Eeeh Prima o poi Bisognerà abbandonare Anche questo mondo E iniziare da capo Purtroppo in vanilla Ma con tutte le serie Di minecraft È così Ho provato Con minecraft Eeeh La prima stagione A farlo andare Il più possibile E sono durato Una roba tipo 250 Forse anche 300 episodi Eeeh Però dopo un po' Il mondo si ribella Si vede con Con i bug Si vede con Con il fatto che Gli snapshot Vanno avanti In continuazione E tu ti ritrovi Senza Senza le cose principali E quindi Niente Per ora Ce la caviamo Anche senza conigli Non è quello il problema Ma sei serio Qui si sono bloccati entrambi Ma io ti picco Cos'è Ma ti sei svegliato Tutto all'improvviso Ma che ti massacro male Ma lascia stare No no Shepard no Shepard guarda Mi stai simpatico Se avessi Anche abbastanza roba Te la darei anche Però no Spero almeno Di finire la carta Lizzo Fammi che dire Nella carta Finita la carta Bravi ragazzi Quello si è bloccato Si Questo continua all'infinito O cosa Ah gli mancano ancora Un paio di trade Quindi questo potrei fare Ancora Un paio di smeraldi E poi mi toccherà Ucciderli Non so Magari hanno fatto Un cambiamento Nello snapshot E non me l'hanno detto Sti cani bastardi Vabbè Con questi 42 blocchi Aspetta Dov'è la pecora Questo è il posto preferito Della pecora Guardiana Tra virgol Certo a parentesi Jeb underscore Dove sei Amica mia Dove Dove Ehi Oh Non dimmi che è despaunata No è possibile Ho aiutato un uomo E non può despaunare Può solo morire E basta Non può despaunare Pecora Ma che ti picchio Ti trovo E poi ti picchio Ma sei la cattiveria Potrebbe essere entrata qua dentro In effetti No quel cazzo Ho paura che sia andata nella caverna dei villager E sia andata lì Non garantisco la sua incolumità Perché villager lascia stare Se si affamano quelli Parca puttana Ammazzano tutto e tutti Non ci vedono più dalla fame Letteralmente No Sinceramente Potrebbe essere qua dentro Mi sa Ci sono dei bambini Uh Dai E cammina un po Ma no Cammina Vai Faccio il tifo Forza villager Forza villager Vai villager Forza villager Uh C'è uno bianco qua Madonna Peggio del tifo allo stadio Ciao signor Cane bastardo Che mi vuoi attaccare Come va? Cane bastardo? Solo perché ho attaccato Quei villager primo Vero? Primo Eh 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 tutto Questo razzismo Verso i giocatori Eh non l'ho capita io Sta roba eh Eh Non potrebbe essere andata Di qua Oh C'è com'è C'è com'è Ma per sicurezza D'attacco lo stesso Ma quanti cazzo sono E là c'è pure un villager The fuck Sì orè Che cazzo ci fa qua lei Ma vaffanculo Mi occupi solo spazio Anche se in realtà Non lo occupi Solo per dire che lo occupavi Perché mi stai sul cazzo E la pecora dove sta? Missione salvataggio Pecora guardiana Ehm Che c'è? No sono serio Dov'è? Non è che ha avuto danno La caduta Ed è morta? Sì scusate L'aereo sottofondo Tra l'altro Va che io ti ho sperato Una name tag su di te Non puoi farmi ste cose Io ti voglio bene Sei suicidata? Ti rendi conto? Una pecora che si suicida? Ma dove cazzo lo senti ste cose? Solo è mancraftita? Nada proprio Mamma mia Ma sei cafone Ma sei Ma che cazzo la prof È tanto impossibile Che sia da dentro E se si fosse annegata? Oh è più carino di quello che mi ricordavo Nei figli affetti non l'ho visto da lontano di notte E non trovo più la pegola Non trovo più Oh cazzo Chiamate la polizia Era qua Non so magari non l'ho vista per il colore Oppure se l'hai nascosto qua L'avevo detto che ti picchiavo? Mi dispiace Mi dispiace ma Sei stronzata Sei stronzata Oh ti rendi conto? Lei era tipo qua nell'angolino E io ho fatto il giro cosiii E comunque non l'ho vista Che cagna che sei Sei proprio una cagna sei Sei una cagna Comunque sì Mi sa che stanno andando troppo per le lunghe Lo spianamento lo farò Facciamo tutto nel prossimo episodio Un po' un episodio full cazzeggio questo Ma vabbè Mi sono divertito lo stesso Io comunque Vi saluto Vi ringrazio tantissimo per tutto Mi piace che lasciate E mi scuso se nello scorso episodio Mi sono nemicato la clip in cui salutavo Però capita Non capitava da tanto A me è capitato Quindi niente Io vi saluto Vi ringrazio Tantissimo per la visione Ricordatevi To the moon Alle 4 Stamattina c'era lo snapshot Facebook Instagram Twitter Ciao a tutti 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 Cazzo dai Fammi fare un salto come si deve Poi Dai ma siamo un cuglio di merda Ma che cazzo devo fare Ma mi fai un salto Io di cento Non lo so Ma c'è solo una E la madonna Ma mi fai uscire da qua Ma porca puttana Ma Ma di nuovo Ma che cazzo fa Vai E allora Allora Vì No No An tutti